ariete finalmente avete un po di tempo libero da godervi con le persone chiamate senza pensieri per la testa le scadenze da controllare un rapporto potrebbe avere la necessità di una bella oliata agli ingranaggi per prevenirne la ruggine toro supererete senza batter ciglio e senza darlo troppo a vedere i momenti poco stabili causati dall'opposizione lunare con l'ecentrico urano tranquilli ve la caverete senza fare brutte figure l'importante è che siate sicuri di voi stessi gemelli anche se la stanchezza si farà sentire avrete tutto il tempo per riposare avreste bisogno di sgomberare la mente di staccare la spina convinti dalle dimostrazioni ricevute siete pronti per ripartire senza nemmeno fermarvi un istante cancro è proprio il caso di dire che i vostri conti tornano sempre per merito del piccolo aiutino concesso vi dalla luna intrigono con il celere mercurio chi vi avrà al proprio fianco non temerà mai di perdere la rotta e di ritrovarsi così fuori strada leone sotterfuggi in vista per via dell'intricata luna e scorpione vi destreggiate bene nonostante una lingua dispettosa da tenere a freno se non ci fosse l'esigenza di alzare la voce usare il potere sarebbe molto meglio donate amore vergine riceverete più di un complimento per una questione che avete portato a termine in modo impeccabile siete davvero soddisfatti di voi siete molto più ricettivi grazie alla luna in scorpione tirate fuori anche le emozioni più nascoste bilancia la partita a carte non è proprio entusiasmante ma anche il film che avete proposto di guardare non si rivela poi divertente come credevate se lo fate per la gioia dello stare insieme non c'è nulla che si possa rivelare noioso o sbagliato scorpione il piglio arguto di mercurio vi aiuterà a sopperire subito alle limitazioni e alla possibile timidezza portata dallo scorbutico saturno evitate di temere il broncio per colpa di un litigio troverete le parole giuste per un chiarimento sagittario magari la compagnia non è quella desiderata ma alla fine non ne farete una ragione di stato e riuscirete anche a divertirvi degnamente trascorrerete una domenica forse non troppo brillante ma nemmeno da buttare via pazienza capricorno il sole e plutone vi doneranno una grande energia ma starà a voi poi decidere come utilizzarla non avete che l'imbarazzo della scelta cercate di essere sempre positivi e propositivi e di realizzare qualcosa che sia per il bene dei vostri cari acquario non ve la prendete per una piccola critica che potrebbe sempre servire a migliorare siete sotto il tiro della quadratura lunare con saturno il problema non è quello che vi dice il partner ma come voi poi leggete interpretate le sue parole pesci non cambiate idea per nessuna ragione al mondo dato che si tratta di un concetto vincente considerato il trigono della luna nell'amico scorpione continuate per la vostra strada da soli o in buona compagnia senza però lasciarvi mai fuorviare